ciao ciao a tutti mi trovo qui nel mio studio e volevo farvi vedere come questa sera dovrò registrare delle chitarre le faccio dentro a questo box speriamo che si vede qualcosa ecco ho realizzato questo piccolo box dove mettere l'amplificatore o la cassa e poi far uscire i cavi da dei fori che stanno qui per poi chiudere tutto e diminuire del 60 70 per cento anche 80 per cento credo il suono che viene generato dalla cassa questo box non è professionale però l'ho ricavato da una cassettiera di un armadio dove qui c'erano tutti i cassetti e ho tolto i cassetti ho rinforzato la parte sotto con del legno adesso da qui non si vede molto bene però qui sotto ho messo una tavola di legno uguale a questa ce l'ho infiodata dove ho ho messo anche delle delle ruote e dentro ho messo i pannelli foro assorbenti anche sopra ho messo una guarnizione qui di gomma piuma e anche qui per fare in modo che chiude meglio è tutto qua molto comodo ve lo consiglio per chi suona la chitarra dentro la casa dentro casa che vuole amplificarsi la cassa vuole registrarla questo è veramente comodo poi ho fatto dei fori praticamente laggiù ho fatto dei fori un foro dove faccio passare i cavi di potenza per la per la cassa oppure il jack della chitarra o della pedaliera se viene collegata se viene messo dentro il box direttamente un amplificatore per la per la cassa Grazie a tutti.